Il sogno diventa sicuramente questa misericordia e questo Padre Misericordioso, che ha tanta pazienza. Ricordiamo il profeta Esteria, che a prima diante di non essere in casa, fosse l'oroso e questo Padre Misericordioso, che a prima diante di non essere in casa, non è vero quello che non è il mondo. Ricordo, appena che il tempo, il valore di un 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 valore.